Qui dal MAB incontriamo nella giornata conclusiva del convegno della AIPMA anche le dottoresse tecniche del restauro che stanno lavorando negli scavi di Ercolano e adesso ci diranno dove e come, a porre orecchio su questi dipinti che sono eventualmente il vostro futuro ma anche oggetto di lavoro. Voi siete studentesse dell'istituto superiore per la conservazione e il restauro di Roma e adesso stiamo effettuando un tirocinio presso la casa del Pollonato toscanico che si trova appunto a Ercolano. State restaurando un mosaico pavimentale che non è una decorazione, è un disegno geometrico? Sì, è un mosaico geometrico con tessere bianche, nere e gialle. Che difficoltà presenta? La vicinanza con il padre? Abbiamo ossidi di più lavoro? Per il momento non sembrerebbe. Ha dei problemi di risalita di umidità, risalita capillare che si provoca dei distacchi e provoca problemi appunto di consolidamento, infestazioni carbonatiche, abbiamo anche dei problemi di deformazione perché appunto il pavimento non è più planare. Quindi in questo caso va smontato, rivellato e rimontato? No, non è quello che faremo in questo caso. Stiamo procedendo con dei consolidamenti per dare coesione alla materia degli istituti preparatori. Un mese, cioè staremo fino ad ottobre, i primi di ottobre, dopodiché torneremo in sede per altri lavori. Domani i news e i congressi vanno a Positano. Noi possiamo permetterci, quindi assicuriamo a Positano. Come no? Eh, se riusciamo molto bene, Fieri. In occasione dell'avviso, la vince è entrata libera all'asta. Ah, wow. Allora potrete. Noi siamo lì ad aspettarvi. Grazie mille. Buon lavoro. Grazie mille.